Buongiorno a tutti da Svegliati Alessandria, oggi è sabato 17 giugno 2023, ci troviamo qui a Pietra Marazzi, esattamente in strada Bricchi numero 17 e su gentile invito del signor Giovanni Leonardo, siamo venuti qui a vedere questo luogo abbastanza curioso che sarà un futuro giardino filosofico intitolato D'Amecuta, abbiamo qui il signor Leonardo che salutiamo, buongiorno Buongiorno a tutti e immancabilmente il professor Manzini Allora va bene, prima di chiedere direttamente a Giovanni, perché lui è l'ispiratore, l'ideatore quello che ci mette l'energia mentale e fisica, vediamo, diamo un'occhiata, innanzitutto il posto è bellissimo, non so se al di là di queste macerie che poi vi spieghiamo perché sono lì e il posto è bellissimo, vedete là in fondo si vede il ponte, di là la piana dove probabilmente viene stata combattuta anche la battaglia di Marengo e poi qui le colline, le nostre colline della zona. Ma vediamo quello che sarà un giardino filosofico e poetico, noi avremo bisogno di più spazi di questo genere, noi abbiamo dimenticato cos'è la cultura, cos'è l'arte a favore di un materialismo becero e inconcludente. Vediamo dove sta andando la società, la digitalizzazione è spinta, va bene, io non dico di eliminare certe cose, però affiancare, non abbandonare altre. Per esempio, qui abbiamo dei richiami culturali molto interessanti che Giovanni ha fatto, ce ne ha fatto una cernita con delle frasi che richiamano anche ad un atteggiamento filosofico, mentale, di spirito, quindi quello che c'è di più profondo nell'animo umano, cioè la propria coscienza, la propria capacità di conoscere e di amare e apprezzare gli altri se stesso e vivere una vita di soddisfazioni e in tranquillità. Ecco, questo è uno spazio, vabbè, al di là dei segni di un cantiere, perché qui fino a due giorni fa c'era una pedana che è stata demolita, ecco, in questa zona dovrebbe venire una sorta di piccolo anfiteatro, anfiteatro dove nello spazio, quindi partecipanti che possono essere essi stessi attori della rappresentazione, si può declamare poesie, leggere libri, cantare e quindi partecipare. Qui verrà, come vedete, un piccolo anfiteatro, ma proseguiamo, vedete questi leggii che partono dal prima di Cristo e arrivano fino ai giorni nostri. Vedete, frasi prese che hanno un loro significato, pecuniano no let, i soldi non puzzano, e ha una sua filosofia naturalmente, detta così, che è stata tramandata da Tito Flavio Vespasiano, l'imperatore. Finché sarai fortunato conterai molti amici, se ci saranno nubi sarai solo, questa naturalmente ci siamo, abbiamo fatto esperienza tutti. Guardati dall'uomo che ha letto un solo libro, purtroppo penso che potrebbe essere una realtà disgraziatamente molto diffusa questa ultima frase. E adesso, naturalmente lì c'è in costruzione anche un laghetto, quindi tutti gli aspetti diciamo più rilassanti dello spirito, del corpo, perché siamo in una bella zona. E quindi immaginate questo posto, fra circa un mese e mezzo, due, adesso i tempi sono quelli che sono, e poi anche in futuro, perché avrà uno sviluppo, evidentemente come un Osi, dove a pochi chilometri di Alessandria, chi è interessato l'ospitalità del nostro amico Giovanni è fuori discussione, si viene, si ragiona, si discute, si partecipa, si porta, si dona e questo è uno spazio che lui ha messo a disposizione per i nostri spiriti e la nostra pace, la nostra anima. Gratuitamente, si può venire, adesso diremo come contattare la situazione, ma voglio sentire direttamente da Giovanni, io l'ho conosciuto, l'ho conosciuto dieci minuti fa, quindici minuti fa, e mi ha impressionato il suo impeto creativo, il suo impeto creativo, che non smetteva di elencare progetti e cose che vuole realizzare sempre all'interno di questo spazio. e quindi io mi sono domandato, se i Giovanni fossero superiori avremmo forse una società diversa, ma a parte questi complimenti, dimmi un po' qualcosa di quello che sarà, di come ti rivolgi agli altri con questa tua offerta. Io faccio uno di quei lavori che sono continuamente a contatto con la gente e devo parlare, faccio l'assicuratore, ma è una cosa a parte, sono sempre stato uno che… Un uomo di relazioni. Un uomo di relazioni e incapace di stare fermo, per cui per circa 30 e passa anni ho organizzato corse podistiche, tuttora faccio qualche camminata ospitando degli amici, per cui per me è la cosa più naturale, continuare questo che è il mio modo di vita. Addirittura una cosa che io dico spesso alle persone con cui parlo è che nel 1974 io ho iniziato a lavorare in bicicletta, nel 2023, io lavoro tuttora e lavoro con la bicicletta, vado dai clienti con la bicicletta e è una di quelle cose che… Sì, ma è anche uno stile di vita, uno stile anche di approccio con l'ambiente. Io mi dico che non ho né colpe né benefici da parte di altri per quello che sono, perché che alti due metri che meriti ha? Cioè io quello che faccio lo faccio perché mi viene fuori dalla testa. Ma parliamo del progetto filosofico, del giardino filosofico, magari ci spostiamo e continuiamo a guardare qualcosa… Sì. Il giardino filosofico ed arte, perché questa? Ne sentivi la mancanza? C'è una rigidità intorno a noi che fa paura? Io ho iniziato con lo scrivere un libro ambientato a Capri, un giallo che ho anche pubblicato, ho avuto un buon ritorno nel senso che le copie che ho fatto stampare le ho tutte vendute o date a persone con cui ho a che fare. e in questo mio libro io immaginavo di essere a Capri. Per poter ultimare il libro ho fatto il viaggio a Capri, quindi sono stato otto o dieci giorni a Capri. Ah, ti sei documentato? Documentato, però il tutto era quasi fatto già, perché oggi tramite la tecnologia digitale, tramite… Ci si avvicina dopo… Si arriva tutto. A Capri c'è un giardino filosofico. E ti sei ispirato? Così, ci sono stato più volte e uno di quei giardini dove non ha un ingresso o un'uscita, tu puoi… come dice una di queste piastrelle che io ho messo, che è questa… Più o meno ti ricordi cosa diceva? Si, diceva… Lo rispettiamo anche se non… In un cerchio dove… Va bene, ma anche se ti ricordi la filosofia della piastrella… C'è un cerchio, un punto può essere l'inizio o la fine. Per cui in questo giardino che è a Capri non c'è un'uscita o un'entrata. Uno poteva entrare dall'uscita e viceversa. Si. Riusciva a cogliere quello che ognuno di noi può cogliere quando va in un ambiente… Oppure poteva ripartire con un altro… cambiato, modificato. Esatto. Io personalmente che apprezzo per mia indole personale, per professione che ho fatto, la cultura. Io sono felice che ci siano luoghi e persone come lei, luoghi come questo che saranno sicuramente… Saranno positivi per tutti. Poi descriverci qualche cos'altro che dovrebbe arricchire questo spazio che tu hai in mente… E poi diamo gli estremi per venire a vedere… Oggi quest'area può sembrare molto assolata. Sono state piantate delle piante. C'è un laghetto… Lì? …che sarà… Animato da… Sarà la zona dove uno può, con il rumore dell'acqua che scende, mettersi a leggere un libro. Ci saranno delle panchine… Ci saranno molte, molte cose. Qui può venire chiunque. Il cancello serve a delimitare, non a escludere qualcuno. Basta muovere la catena e sedersi, fare il giro di quello che sono i leggi predisposti in senso orario. E poi fermarsi a fare merenda… Mi hai detto che fra poco, adesso non ricordo, verrà qui un gruppo a salutare il sole. Mercoledì, che sarebbe il 21… Sorge di là. Sì. Sì. E ci sarà il pleno luglio d'estate, per cui un gruppo di persone che fa yoga verrà qui a fare il salute al sole. Benissimo. A questo punto non è escluso che verremo ancora ad aggiornare la situazione. Certo, è un piacere e spero che le cose… Fabio, gli estremi… Già, Giovanni, gli estremi per venire qua. Allora, Pietro Amarazzi… Strada Bricchi 17. Io personalmente ho un profilo Facebook, Giovanni Leonardo. In questo profilo c'è anche una pagina che è chiamata D'Amecuta, giardino d'arte e filosofia. D'Amecuta… D'Amecuta è il nome di una villa fatta costruire dall'impedratore Tiberio a Capri. Ecco. Oggi è ancora visibile dove ci sono i ruderi e dove io mi sono immedesimato nell'idea di costruzione di questo sito. Praticamente un posto da frequentare, da vedere, da tenere in mente. Benissimo. Arrivederci qui da Pietro Amarazzi. Pietro Amarazzi. Un saluto. Luigi e Fabio. Salute. Buon weekend.